altri eroi osceni once again eroi osceni io prendo mali raga qua mi sembra l'unico playable di questo o keltash o mali keltash mi sembra merda totale anche mali non è buono però sicuramente almeno raffan fa schifo stavamo dicendo due due no qua è vero possiamo trasformare prima mezzo due due 2 1 1 4 no no way trasformiamo questo boh magari questi due qua ci danno una tripla di questo che poi pigliamo ma non penso cioè quali velliamo dopo mi sa tecnicamente non è male frizzardo uno perché poi ci spona pezza due pigliando uno siamo coin trasformiamo il due lo prendiamo no dopo tanto quindi ci sta secondo me a gestirla così anche domani non devo mettere holly win nel titolo però ieri ha portato bene holly win perché alla fine siamo andati in positive non lo so cioè sono un attimo come dire confuso capo nonrain no na 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 vaig do it again 3 2 2 let's do e l st way io trasformerei 4-6 problem na na ladder 0 a luie lo piglio è sicuro lo gioco ora E poi Io rollerei questo raga Perché a me 4 Cioè non lo so non mi va troppo di prendere il danno Però un turno lo potrei anche tenere giù Cioè rolliamo lui prima e vediamo cosa ci dà Questo è ottimo cazzo Ok questo è ottimo Usiamo coin Pigliamo questo e rolliamo questo O lo lasciam così com'è Rolliamo un 1 per vedere se ci dà tripla Qualmente è meglio rollare un 1 per vedere se ci dà tripla Questo lo giochiamo Vediamo Posso pinnare il messaggio di scaricare Sonar? No lascia per favore pinnato Instagram Tanto dopo lo metto nel gruppo Telegram Sonar Se volete supportarmi praticamente sto mese La live è sponsorizzata da SteelSeries Rega E basta fare punto esclamativo Sonar in chat Cliccare sul link e venite contati ok Quindi pretty easy sarebbe Le caramelle rare Solitamente quando sei la Lega nella cage se vuoi vincere Quando sei Oh questa non è male Cioè ragazzi io non è Non riesco a rollare una quest buona Cioè è assurda sta roba Vendi 5 pezzi prenderò Cioè è la più ok Monday Tuesday Vediamo se mi da tripla qua Poi io questo lo piglierei Lo holderei anche ti dico Cioè lo holderei anche Lo terrei su board Così non prendo danni da lui no Vediamo questo cosa mi da Però non vendo ora Perché non è bellissimo Non è molto clean vendere ora Io prenderei 2-1-1-1 e li giocherei Ok questo è tripla E sì 1-1-2-1 e li giochiamo E frizziamo questo Not bad sta roba Stiamo gestendo bene sto game Sono contento dai Più almeno Ti hanno fatto una macumba con ste quest Oh no Rega Cominceremo a rinrollare bene Uno di sti giorni Si sperava oggi Ma magari questa è la lobby Dopo ti ha rap tripla Sì sì Wow questa è enorme E ha pure infinite Come cazzo è possibile Ah se ne sta tenendo in mano Ma che è questa? Ah questa Ah minchia festa del paese con vino illimitato Comprensibile che possa finire non bene Mettiamola così dai Tier up Tripliamo no? Possiamo anche rinrollare il 4 Se esce brutto Se esce solo roba brutta Oltretutto quindi Dai why not Kirage non è male Kirage non è male Isshari non è male A me Isshari piace molto vi dico Questo lo vendiamo in turno dopo Probably Oppure pigliamo il neomelodico E lo rinrolliamo due volte Sperandesca qualcosa di decent A me piace il campione di Isshari però Così in Irly secondo me è fresco Isshari è sempre buono Più o meno Si snova con Kordo Boh trasformiamo qualcosa in tavern Direi Non vorrei trasformare sta roba ora Oh brobrio ma Vediamo Siamo a turno 5 Qua forse perdi Andasneed Devo sperare che non abbia un 4 d'attacco davanti Ma perdiamo Non lo so in realtà Lui non ha ancora fatto i raw power Questa è molto strana come roba 6 battle Ah già sta roba Con 6 battle Crea il robot in Ok GG A lui che ha vinto la lobby E non la qua perdiamo Ovviamente il fight 40% Dobbiamo finirla quest noi Certamente andiamo a mangiare la cacca qua Ma questo è da vendere Dobbiamo cercare di finirla quest Allora la minaccia è un robot Più che altro Questo è un drag Questa divine Riesco a vendere 5 ore 1,2,3 Potrebbe non essere foller Vendere 5 ore Prendere danni un turno Per poi essere decenti il turno dopo Questo qua mi piace Perché se gli riesco a dare taunt Non è male Riesco a vendere 5 adesso io Penso che si sapete Abbiamo venduto uno no? Lei la piglio La vendo Poi cos'è che vendo di questi rega? Lui? Oppure rerollo lui? Vedo cosa mi da in caso vendo l'altro Voglio tenere Questa lo terrei Forse tipo Mi devo dare una mossa raga Devo fare una play un po' esotica qua Ok questo ci sta a piglierlo Adesso Penso sia giusta La nostra play Non sono riuscita a trasformare Però Tecnicamente ora noi perdiamo E prendiamo un po' no? Perdiamo e prendiamo un po' Non è neanche detto che perdiamo Però dopo abbiamo questo qua Baffato con 12-12 Se troviamo taunt e huge Perché baffiamo questo infinito no? Mi peso sia worth Onestamente Sfiga di perder Perder di così Sfiga Ok 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 Servirebbe taunt Però questo è molto buono in realtà Cioè non so se voglio livellare Già io ora In realtà Perché secondo me posso anche star fermo un turno E livellare turno dopo con calma no? C'altro questo da holdare Ok Posso pigliare lui Lui Rollo Minchia Certo che sia in taverna 3 Vediamo cosa ci dà il 3 questo intanto A sto punto è meglio Quasi holdare lui no? E questo lo gioco Così questo si buffa già Servirebbe qualche taunt in più Sì così questo qua dopo è enorme Giochi a lui Sì 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 Se mi piace sta play raga Che sia giusta no? Deflecto? Deflecto è buono Sì sì Deflecto secondo me lo devo pigliare Vediamo com'è sta roba Qua abbiamo un problema Che non ha Lui non ha taunt Allora 28 di loss Ci servono i taunt qui Questa è una buona hit Questa un po' meno Buono dai Ok Voi come siete messi a livello di MMR chat? Tell me that Questa non è terribile in realtà Cioè qua io posso anche gestirla Pi 12 Pi 12 è tanto Madonna Madonna Santa E Un giochi a bg dalla pandemia Minchia Con la tua lezza Lui è taunt Non è terribile avere un taunt giù In più Però non ce la faccio Cioè potrei pigliare lei Vendo Compro lui Così questi si buffano Abbiamo un coin in più in mano Lui lo holdo Oppure rollo Però deflecto è forte qua Secondo me deflecto è molto buono qua Trasformiamo questo ora Ok Nulla la merda Ah io prenderei lui Lo darei qua E dopo il darei deflecto Questo va qua E via Sembra buona sta roba Lui ha demoni Perché demoni? Scusa Non va robot Questo Andrà robot lui Con sta quest Per forza Anzi Secondo me Potremmo anche posizionare così Secondo me Probabilmente andrà robot Servono dei town Traga Adesso è not yet Non ha Wow Terribile sta roba Raga Che entrambi ora si devono andare a schiantare lì E sto terrible Oh mamma che hit Spero basti per non perdere Questo ottimo Che abbia riproccato prima Ottimo Azz morello Colpa del thunder quindi Alla fine è sempre lì Sempre colpa del thunder Ti consiglio di recuperarti i video su youtube alle due e mezza Merda Questo è buono raga Vogliamo Vedere dei 4 Secondo me si Merda Merda Mi so Merda Merda Mi sopiglio Fa schifo un poster Questo Ti dico Non è terribile Però sto in taverna 4 Unplayable stuff Molto buono In realtà molto buono Sì non è male in realtà Perché Così lui si buffa molto di più No A gioco lui sicuro Sarebbe da vendere un drago secondo me qua Uno di due draghetti di merda no A chi lo voglia andare taunt al deflecto Facciamo un doppio deflecto tauntato con refresh a ciascuno di essi Io li piglierei quelli che buffano i divine Cioè questi qua entrambi li piglierei Devo per forza vendere uno no E non voglio vendere taunt Merda cotoletta Fa il bravo cotoletta Grazie del prime Anzi Molto male che non l'avessi già fatto prima Tu il prime però Ah questo qua ha vinto la lobby Complimenti Di gelo Nulla di nuovo Ma buono Questo qua non ci shotta pezzi Il che è molto buono in realtà Ma forse non perdiamo qui Buono Che ritto Sarebbe stato troppo huge Bella amnesia Com'è? Ah sto prendendo un po' di schiaffi in realtà oggi Però mi fa piacere che Grande Claudio Merda cotoletta che saluta il mod Dicendo grande Claudio Che cazzo In che anno siamo dio boia? Ah eccolo 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 Quello che ha arrollato la quest di battle Guarda caso Chi è primo Chi è primo Al tier 6 con la quest finita Non a caso quello che ha arrollato Quella dei battlecray Non l'avrei mai detto Che roba strana Succede mai La quest inrollabile Com'è questo? È playable Questo lo piglio Questo lo piglio Wow Questo è molto buono in realtà Anche Ma lui salta sicuro Questo lo gioco Salta Questo lo gioco Salta Compro 1-1 No? Giochiamo Deflecto No? Non abbiamo il refresh Per ora Deflecto Purtroppo Però Giochiamo Deflecto Giochiamo lui E dopo Bian questo No? Spero di non prenderne 40 Da lui Ora che è finito il cup Non sarebbe Diciamo il divertimento Più totale Ecco Vediamo Ti dico Questo qua Al 6 E Vabbè Non sta sfruttando La quest Che altro Non si sa perché Però E al 6 Costa roba Quindi In due turni Diventa abnorme Però Anche i miei pezzi In mano Diventano grossi Capo Io l'ho a due Te lo faccio anche Pure con il pezzato sotto Però Tu non farei il quickshot Per la terra Trovate un altro streamer Che ha un senatore Come fan E che senatore Oltretutto Io ti direi Che senatore Zio Perché è il migliore Cioè non è un senatore A caso È il senatore migliore Che ci sia È lui Il god È il clamoroso Inimitabile O di alta Solo da chi è invidioso Oh questo Com'è È un tanti in più Non è male Per lei Non è per nulla male Eh ci sta Ci sono gli invidiosi Del senatore Razzi Purtroppo Perché Un personaggio Importante come lui Ci sta che uno sia Eh cinghiala qua Eh dovrei Tantare lui stesso Sì O per tonge Deve saltare lui Mi sa Potrei giocare Un pezzo in meno Eh sto fight Però io Lui lo vorrei Tantare Tantare lui Non sarebbe male Questo lo vorrei Giocare ora Io Ottengo È paradosso Tenere ancora Lei in mano Follia Forse sì Forse sì Eh oddio Se no è folla Tenere ancora lei In mano Ragazzi Lui lo voglio Tantare per forza Bella Barboghetti Del follo Grazie Socio Gentilissimo Ammirabile Qua devo dare un pezzo Forse Toldo il town Sapete Io vado un po' L'in Capo ti dico Chi me la gioco così Grosso lui Ma il mio town Di Vineshield È grosso As well Baffati Baffati Cosa di Shari Non mi tari Shari Ti prego Cazzo Non mi tari Shari Hitami il robot Non mi Shari Ottimo Il naz ragazzi Merda se siamo puliti Se siamo clean Merda Spaventosi Capo Peccato che non abbia Rittato questo Ma vabbè E questo qua Ora si piglia Il più 12 Più 12 Plus dos Plus dos Chi è che vince La lobby Olms Oh mamma Anche Olms Può essere messo bene Allora Pigliamo 4-7 Ma Non si va A fa da solo Sì sì Appunto Però lui non era Taunt Gliel'ho dato io Ora il taunt Di default Non si baffa da solo Piglia lui Buongiorno Brother Non lo so C'è il 4-7 Secondo me Era prendibile Perché La coppia Non lo so Perché vorrei cercare Qualche magnetismo Ora Però tenerlo in mano Per dopo Non è male Anzi Io forse lo rollerei Giusto perché Il 4-7 Ci sono vari magnetismi Non posso Pigliare coppia qua Mi serve un magnetismo Da oldare Possibilmente Coppia Dio stronzo Non mi da Magnetismo Assurdo Ragazzi Però Dai ragazzi Incredibile Che non mi dia Un magnetismo Da oldare Devo oldare Per forza Qualcosa Oldo lui Angen Un turno E dopo Lo do a lui Mi sembra Un po' greedy Come play Te lo dico Forse È la giocata Stile Incredibile Ragazzi Huge Sta roba Lo oldo lui Un turno Rega qua Secondo me È worth C'è worth Può essere worth Però che qua Rischi di pigliarne Assia Da questo Ormai grosso Parecchio Sto tipo No Non lì Cazzo Buona Stai Se gli rimane vivo Solo il 97 Ok Dai Ma mi sa Che gli rimane vivo Anche l'altro Dio Bastardo Speriamo di no Forse non dovevo Il dare lui Eh per ora Tanto sto fight Penso che Probabilmente L'avrei perso Comunque Se solo riuscisse A eliminare L'altro Ottimo Ottimo dai Forse l'avremmo perso Comunque sto fight Sicuramente Era un 60 Bella Dieguito Cioè Dieguito Dario Volevo dire Non so Perché ho detto Dieguito Arrivo Andiamo Facciamo questo Intanto Murozond Aveva Draghi Lui con Bran Tipo Titus serve No Titus è un merda Pugliamo Murozond Forse era meglio Rallare Nadina Sapete Però il 5 C'era quello che Baffava per ogni Cosa Chargla Oddio Chargla Potremmo anche Tenere giù Non troviamo Altro Puglierei A ruota Di magnetismi E' buona Prolevamo il Mecha 6 Questo No non è buono Però Comunque Quadian Questo qua Qua direi E poi Dopo giocherei Doppio magnetismo Su questo Tanto Come dire Cioè In mano Ci viene Abbaffato Quello che Da lui Buon vediamo Questa qua Chiaramente Non la frizzo Fa schifo Come triple No triple Assicuro Non la faccio Ragazzi Forse Triple Fa schifo Che tumore Sto tipo Porco Dio Godo Che mi ha Già Spaccato Cioè Che mi ha Già Ettato Il primo Cosa Madonna Puttana Che culo Ragazzi Questo Maremma Maiala No Così Unplayable Maremma Cazzo Di Robbery Che culo Sto Tipo Mamma Mia Che Cazzo Di Culo Ragazzi Cioè Perché Gli Sono Andati Due Buff Sui Pezzi Enormi Dai Assurdo Ora Muoio Ragazzi Sto Game Però Merda Ma mi viene Da piangere Muoio Sto Game Mi viene Da piangere Morire Sto Partita Te lo Dico Cazzo C'è Come cazzo È possibile Che muoio Sto Partita Dai Incredibile Cazzo Servirebbe un Reborn C'è un qualcosa Che ci dia Divineshield Un'ulteriore Volto Questo è Buono Tipo Ora Rollo Il tier 6 Ora Ci sta Anche Tanto Non è stata Una grande idea Però posso Pugliare un Taunt in più Che può non essere Meglio di Charglass Secondo me Ah il Boxer Era good Ma Ci sta a giocare 6-4 Può non essere Terribile Perché lui Potrebbe avere Scam comp Secondo me Raga Qua io Vabbè Lui lo posso Ancaldare Perché non Livello Perché Livellare Inutile Qua Boh Tecnicamente Questa è la play Muoio qua A meno Che ti devo dire Fratellini Cioè Moriamo Mi sai Come che moriamo Quanto meno Perdo il fight No sei No siamo sopra Addirittura What the fuck Non l'avrei detto Di essere sopra Vediamo Ma lui ha Ridato il coso Lì per Ribornare Ci sta Che sfiga Ragazzi Cioè Perdiamo Perché non c'è Ribornato il pezzo Là se non erro Ok Perdiamo O non perdiamo O lo mando a mangiare La cacca Questo Lo mando No non lo mando a mangiare La cacca Perché sto al 4 Ovviamente Top 4 Ma il primo Sarà spaventoso Ragazzi Lo sapete Il primo Spaventoso Sarà Ora Rolianti 4 Forse ora Potremmo andare Al 5 A cercare Un In realtà Una Un Leroy Forse Però Tecnicamente Meglio restare Al 4 E trovare Qualcosa Che Ridia Divan Shield A loro C'ha Degli ulteriori Menans Queste Queste mi servono Se voglio aver chance Cosa che non ho chance Qua Secondo me Però Se voglio aver chance Mi servivano In questo Posso pigliare lui O il dare Se voglio No è vero Tanto mi dà il pezzo Qua Rolliamo Rolliamo Nulla Potremmo frizzare 6-5 Ma non penso Di frizzare Quello che possiamo fare È così Forse addirittura Perché lui rischia Di avere un divan Shield davanti Vogliamo posizionare Più che altro Lui è buono davanti Se lui prende Quella che toglie Divan Shield Perché se poi ci shot Uno di questi due pezzi Loro possono riprendere La vicenda Il cosa Sì questo qua ragazzi Sarà una roba Che dire Norme Riduttivo Probably Vediamo però Vediamo qui Peccato Perché ne abbiamo fatto Un gran game Qua però Ma ti dico È grosso Ma non è enorme Anzi No che sfiga Ragazzi No ragazzi No Cioè Non ci sto credendo Questa buona Almeno No io non ci sto credendo Davvero mi ha hitato Lì Maremma Maghiala Ok Questo refresh Almeno Ci siamo Ci siamo Strategico Il Thunders Top 3 Posso beccare il morto Un turno No Devo beccare FK Sarebbe enorme Tutto Ehm Maremma Maghiala Voglio livellare Ora Secondo me Sì perché Possiamo trovare L'eroe Può essere utile Con lui Questo qua Era meno forte Di quel che pensassi Questo Ne ha tirati 18 A lui Con io ci ho pareggiato Quindi Sai che questo è particolarmente Sgravo Ora Però vediamo Cioè Noi non è che siamo brutti No Oh minchia Questo è carino È folle prender lui Per chiudere Non è granché Oh Mamma mia Che skill Capo Sembrava l'altro giorno Che l'avevo fuori L'avevo già fatta Sta skillata E Ah l'eroe lo voglio Sì l'eroe lo voglio Qua ragazzi Mi sa che non ho il do nulla Io Ve lo dico Qua non posso dare nulla Bom Questo è ragazzi Questo è Si può frizzare 2-2 Dal dar Però in realtà Dopo ce l'ho da lui Il pezzo Questa è Abnorme Se mi hit E il deflecto Sono morto Buona hit la mia Buono che non hai Tappo il deflecto Buona hit Male questa Non benissimo In realtà Marino Però no In realtà Ora il deflecto Gli spacca entrambi No Ah se lui Avesse hit Hittato l'altro In realtà Gli spacca Bella sta hit Questo va a mangiare La cacca Buono Siamo al 5 Noi no Sì Dobbiamo battere il primo Raga Dai Dobbiamo battere il primo Allora Vediamo un attimo Spicy siamo Merda Che game assurdo Ragazzi Con quest Brutta Solo che Batter quest Ora Sarà tosta Di che altro Non abbiamo Baffato niente Questo Com'è Non è così buono Lui Oddio Dipende che pezzo Guardiamo La quest fortissima Non brutta Non è così Insana Questa È ok Sta questo Non è Ah Più che altro Stavo riflettendo Sul fatto che Se vogliamo Player Roundare Dipende Cosa vogliamo Player Roundare Qua Io cercherei Dei cose Io rirollerei Forse dei 3 Per la Menace Addirittura Io rirollerei Dei 3 Per la Menace 3-1 Che ridà Divine Sapete Nice Madonna Stupenda Cazzo Oh mamma Ragazzi Sbura Questa Questa Clean Capo Questa Veramente Clean Pulita Altro Liro Meglio di Questo Questo Forte Ma no Per come aveva lui La build Tecnicamente È così Da posizionare Questo Secondo Perché lui Se ha il Cleave È meglio Vediamo Vediamo Non ci credo Che mettete Sto No Ok Refrescia Scudo Ottimo Refrescia Tra l'altro Che ora Muore Il pezzo Gran primo Questa Maremma Maialo Che cazzo Questo È un game Bello Puttana Non quelli Dove Mori Con le Quest Di Merda Caso Ci